Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi facciamo il tag che tutto Booktube Italia sta facendo visto che io non l'ho mai fatto, è il caso di farlo, dai, sopporterete anche questo mio conformismo una volta per tutte no, sto scherzando ovviamente Comunque, allora, visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno pensavo di fare anche una cosa più leggera, visto che tutti i prossimi video, tutti, tutti saranno dei mattonazzi è un po' una decisione che sto prendendo io per il canale, insomma, mi interessa più fare approfondimenti che video un po' frivolini però a volte mi rendo conto che io non posso scrivere e studiare continuamente perché devo comunque lavorare detto ciò, quindi, l'idea era di fare questo end of the year book tag che può fare recap di come sarà l'ultima fase dell'anno per me, dal punto di vista della lettura non so nemmeno dirvi come, però, insomma, l'idea è quella di sviscerare i miei prossimi piani letterari e sapete che a me la parola piano, in generale pianificare, fa venire la pelle d'oca però direi che è il caso di passare alle domande perché se no anche questa intro durerà 800 milioni di minuti però, prima di partire, delle ulteriori premesse fastidiose quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché non sempre vi arrivano i miei video in home e se volete supportare il canale, ulteriormente potete farlo utilizzando i miei link di affiliazione di Amazon che trovate giù nell'infobox ma anche seguendomi sui vari social media che se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, specialmente Instagram ho da poco fatto Twitter, ma io userò Twitter solo per scopi del lato oscuro quindi lasciamo perdere però giù trovate tutti i punti dove seguirmi nel mondo social detto ciò, passiamo oltre e direi di andare a fare sto book tag iniziamo che vi ho già trattenuti abbastanza la prima domanda del tag chiede se ci sono libri che ho iniziato quest'anno ma che non ho ancora finito e devo dirvi che in realtà ce n'è uno in particolare che purtroppo mi trascino da mesi e non perché non mi piaccia ma perché non ci torno mai poi ne ho ascoltato un pezzo in audiobook poi non lo so, mi sono un po' persa che è Figlie di una nuova era che in realtà è un libro molto piacevole secondo me è uno di quei libri che comunque è una saga familiare ma non solo, comunque ha tutte trame politiche e sociali che sono molto interessanti però devo dire che non mi sento sempre tragrettato verso di esso e alla fine è da st'estate che lo devo finire vedremo, dai, spero di finirlo entro la fine dell'anno la seconda domanda invece chiede se ho un libro autunnale che funziona più o meno come libro di transizione verso l'ultima parte dell'anno verso la nuova stagione anche immagino e allora io non ho i libri stagionali tendenzialmente perché non credo nella stagionalità dei libri ok? però devo dire che sicuramente un libro perfetto di transizione era 9000, il libro Ardugo ovviamente perché comunque il periodo di ottobre era perfetto l'ho finito e ora sto leggendo Mermos che vi faccio vedere qua davanti che è un libro abbastanza adatto invece anche proprio da questo punto di vista come transizione ma non perché sia un libro autunnale è che è un libro che ho iniziato questa settimana e quindi, beh, libro di transizione chiamiamolo così la terza domanda invece chiede se c'è un'uscita che sto attendendo particolarmente e devo dire in realtà non c'è nulla che sto attendendo nel mese di dicembre diciamo più o meno perché gli ultimi due libri che io attendevo ma forse sono insieme a 9000 i tre libri che attendevo di più della seconda metà dell'anno ovvero Starless Sea di Erin Morgenstern ma anche Genevieve Deception di Kirsten White sono molto 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 curiosa Starless Sea l'ho appena appena iniziato mentre Genevieve ce l'ho comprato e adesso attendo di liberarmi di una e dell'altra insomma sono molto agitata per questi due libri soprattutto per Erin Morgenstern speriamo speriamo bene insieme tutti insieme diciamolo speriamo che Erin Morgenstern non abbia fallito ok? e poi sono anche curiosa di leggere questa nuova reimmaginazione del ciclo arturiano targata Kirsten White che sapete che è un'autrice che io amo molto perché la saga di Io sono buio cioè And I Talken è una delle mie preferite la prossima domanda chiede invece quali sono i libri che vuoi leggere prima della fine dell'anno e allora adesso facciamo una cosa questo è l'obiettivo il realistico poi ci sono anche due ebook ma adesso la metto giù perché c'è un discorso da fare su questa cosa cioè vedete che è il realistico al massimo che io lega tutta questa roba detto ciò io non credo nelle TBR l'ho sempre detto perché la TBR porta sfiga cioè io automaticamente dico questo è il mio piano di lettura ci metto dentro un libro automaticamente non lo leggo c'è qualcosa che l'allinamento dei pianeti fa in modo che a me non venga voglia di leggerlo e quindi non lo leggo non lo so le TBR portano sfiga secondo me comunque questa è la mia TBR irrealistica e come vi rendete conto voi questo sarebbe il mio desiderato cioè se io da qua alla fine dell'anno non facessi nulla nemmeno YouTube oltre a non lavorare le 28 ore che lavoro al giorno sarebbe bellissimo poterli leggere tutti poi speriamo ma io non dirò mai quali libri voglio leggere entro la fine dell'anno perché porta sfiga le TBR portano sfiga automaticamente quelle robe lì che metti non le leggi cioè almeno io sono fatta così sono fatta male sicuramente però prossima domanda chiede invece se pensi che ci sia un libro che possa scioccarti e quindi diventare tipo il tuo libro preferito dell'anno tra le tue ultime letture allora anche qua ragazzi dobbiamo fare un discorso perché cioè io sto per ho letto Ninth House e l'abbiamo schiantata quindi è stato un sollievo spero che vedrete la mia recensione così vi rendete un po' conto di quali sono i miei pensieri legati a Ninth House di Libardugo però è stato consolante leggerlo perché mi ha dato la sicurezza perché mi è piaciuto molto e ora sto leggendo Starless Sea io ve lo dico questo deve diventare il mio libro dell'anno perché se non lo diventa vuol dire che ho passato gli ultimi 14 anni buttando via la mia vita e sono drammatica assolutamente sì però cioè non so come dire è un po' come quando è uscito Circe di Madeline Miller no? Harry Morgenstern scrive poco scrive divinamente scrive così bene è riuscita a creare Night Circus quindi se lei con questo nuovo libro che ci ha messo più di 10 anni a scrivere non arriviamo all'apocalisse in qualche modo io non so come superare questa cosa ve lo dico quindi questo deve diventare il mio libro dell'anno o su Genevieve non ho diciamo le aspettative così alte spero sia un libro molto carino molto piacevole ecco però se Harry Morgenstern fallisce io non so come la prenderei ve lo dico sinceramente ultima domanda invece chiede se ho già iniziato a fare dei piani di lettura per il 2020 allora qua devo fare una serie di premesse non ce l'ho con nessuno in particolare questo è più legato al mio modo di vedere le cose e a come sono fatta io però diciamo io ho un problema molto grosso con la pianificazione per me la pianificazione che è utilissima in alcuni casi soprattutto quello lavorativo lo trovo uno spreco di tempo incredibile cioè adesso poi sarà che forse quest'anno tantissimi booktuber eccetera hanno iniziato a fare anche il bullet journal non ce l'ho con voi ripeto non è quello il senso che ha questa mia frase però il bullet journal e far vedere quanto tempo ci mette per me l'idea di sprecare metà di un'ora cioè mezz'ora a fare il bullet journal un'ora mezza giornata quattro ore mi crea un'ansia pazzesca perché vuol dire che non sto lavorando quindi a me tutta la pianificazione inutile superflua cioè quella che non è legata al lavoro la trovo proprio uno spreco di tempo e soprattutto sulle letture le tbr sapete che poi io come vi ho appena detto penso che le tbr portino anche sfiga ma la pianificazione è qualcosa che mi uccide poi ci sta che magari vedo le prossime uscite durante l'anno devo dire che stranamente questo ancora non l'ho fatto quest'anno non so dirvi perché è il primo anno però a me la pianificazione sta proprio stretta è qualcosa che mi fa sentire super mega disagio lo odio e non voglio assolutamente sentire parlare di pianificazione soprattutto per la lettura anche perché io leggo in maniera molto sentimentale diciamo io se in quel momento sono traghettata verso una roba la apro e la leggo se non mi va di leggerla non ce la faccio anche se è un libro che attendevo da molto cioè Ninth House io ho rimandato settimane nonostante fosse un libro che attendevo tantissimo perché non c'era mai il momento giusto cioè alcuni libri richiedono più attenzione di altri alcuni arrivano in un momento magari dove è giusto che arrivino ma non lo so gli sono fatta male probabilmente sono tutti sicuramente più bravi di me in queste cose però preferisco la spontaneità e sapere magari ovviamente che ci saranno uscite di un certo tipo tutto il resto non mi interessa spero che sia uscito nel modo migliore questo discorso perché chiaramente non ce l'ho con chi fa il bullet journal non ce l'ho con chi fa le TBR è che per me per come vedo io le cose no porta via troppo tempo io già ne ho poco punto stop niente io direi che siamo arrivati alla fine del book tag spero che comunque sia stato un riassunto piacevole così sapete cosa farò nei prossimi mesi quanto sono folle con quella pila enorme di libri e niente io spero che comunque insomma ci siano spunti interessanti fatemi sapere cosa rispondereste voi ci sentiamo giù nei commenti ovviamente che sono curiosa di sapere anche voi se avete qualche libro che puntate particolarmente per questi ultimi per queste ultime settimane fondamentalmente fino ad arrivare alla fine di dicembre e niente io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche oggi e direi che ci vediamo alla prossima ciao